Atena, dea della saggezza e dei mestieri. Nel mito Atena, Minerva per i romani, nacque dalla testa del padre Zeus, già donna adulta. Sono Atena, a me interessa il mondo, esattamente così com'è. Come felini in riposo, come la scia del rumore di auto a pioggia quasi finita, come il profumo intenso dei giacinti, come la luce che prepotente e netta esce dai volti, come fare quello che si deve fare, come si deve fare e farlo così ogni volta. Sono Persefone, una brava ragazza, obbediente, attenta. Nel mito Persefone, la proserpina dei romani, fu l'unica figlia di Demetra e di Zeus e rimase una fanciulla allegra e spensierata, fino a quando Ade, dio degli inferi, non la rapi. Archetipi Cosa sono gli archetipi? Sono temi universali o modelli della condizione umana. La conoscenza degli archetipi ci permette di comprendere le nostre esperienze emotive, ciò che siamo e ciò che vorremmo diventare.